come signore a me non fa capito e tu che hai da guardare si che hai da guardare e voi che cazzo avete da guardare voi che guardate me voi non siete diversi da me ma siete peggio tu signor alvaro direttore generale che hai fatto fallire le banche derubando i risparmi di padri di famiglia e ora sei cui a spendere quei soldi per uno champagne da 400 euro e tu guardi me in quel modo anche a te onorevole gaetani che hai tagliato le pensioni a quella povera gente che si è fatto il culo per un'intera vita per 900 euro al mese e ora sei qui con questa prostituta da duemila euro a notte e anche tu guardi me in quel modo e anche voi se siete qui è perché siete peggio di me una feccia come me imbroglioni facendieri ladri delinquenti usurpatori ma che pensate che siano i i denari in tasca a farci diventare dei signori ora sei libera siete liberi anche voi tutti siamo liberi di fare quello che vogliamo no ma ricordate che ognuno raccoglie ciò che semina e il conto prima o poi arriva grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.